Cappella di San Giuseppe Anticamente denominata di Santa Croce, contenne il sepolcro della famiglia De Ferraris. Nel 1774, il dominicano frate Filippo De Previ di Massara arricchì la cappella di un nuovo altare, radini e balaustra di marmo. Ne fece decorare artisticamente le pareti e la dotò di una nuova icona. Davanti a noi è rappresentato il martirio di San Pietro Martire. Nel momento in cui il santo sta per essere ucciso, scrive con il suo sangue sul terreno Io credo. La cappella è stata ristrutturata recentemente e in alcuni punti sono presenti tracce della vecchia pittura gotica del 1300.